Il prossimo pezzo è Mutants, nonché il singolo del nostro prossimo EP. In realtà è stato scritto in un momento in cui, visto che siamo molto fortunati con le ragazze, è giusto anche questo un flusso di coscienza, ma alla fine la domanda è ci stiamo trasformando o siamo sempre umani capaci di amare? Questo è Mutants, anche questo non sappiamo di cosa parlo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.